Il braccio ha in effetti accentuato un po' il fallo, pallone ottimo, Rui Barros, Rui Barros, gol delizioso, Rui Barros, splendida azione della Juventus, calcio di punizione battuto, triangolo e la Juventus è in vantaggio adesso al ventesimo con Rui Barros in precazioni da parte di Bats che si chiede che cosa ci stiano a fare i suoi visto che si è trovato Baros completamente smarcato, forse alcuni si aspettavano il tiro forte, invece il Barros come possiamo vedere ha messo tutti fuori squadra, fuori portata con questo tocco delizioso di destra, gol di Barros al ventesimo, 1-0 per la Juventus, pallone in fondo al sacro,